Stamattina stiamo qui sul porto di Torre del Greco con gli allievi del Vincolo Sasso per attività relative alla pulizia del mare e alla sensibilizzazione per il seno mare. Le prime attività che sono iniziate ad aprile continuano ancora oggi e quando riguarda invece la pulizia dei Fontani è stata rimandata per un'emergenza che si è presentata. Sulla località La Scala continuano le attività con le associazioni che in collaborazione con le istituzioni del territorio oggi sono dedicate per questa attività di sensibilizzazione e comunicazione del nostro mare.